Sono stati ammirati da milioni di persone in tutto il mondo, sono gli abiti usati in grandi produzioni cinematografiche come Troi, Marco Polo, Mulan e molti altri film di successo appartengono a Paris Costumes, azienda spagnola che si è ritagliata una nicchia di mercato nella mecca del grande schermo. L'azienda ha una filosofia ben precisa, non si butta via nulla e nel corso degli anni il suo catalogo è diventato enorme. Ci sono circa 10 milioni di pezzi e continuano a crescere di giorno in giorno, dice la direttrice marketing dell'azienda. Cerchiamo sempre soluzioni diverse, magari quando ci mancano dei vestiti. Quest'anno ci saranno diversi progetti ambientati negli anni 30, quindi stiamo cercando di espanderci proprio su quel ramo. Il crescente successo di piattaforme di streaming come Netflix, Disney+, HBO ha molto a che fare con il successo di Paris Costumes. I film vengono prodotti con budget minori e in tempi più ristretti. All'inizio, dieci anni fa, Paris Costumes aveva solo una dozzina di persone a Madrid. Da ora il gruppo conta 250 dipendenti con uffici e laboratori in ben 15 paesi.